Salve a tutti carissimi cinefile carissime cinefile ben ritrovati in questo nuovo video dunque oggi voglio parlarvi di un film che sono andato a vedere la scorsa settimana al cinema è del 2020 scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli ed è intitolato Miss Marx premetto che farò degli spoiler quindi se ancora non avete visto il film in questione e non volete sapere nulla in anticipo tornate in un secondo momento a vedere questo video Bene, Miss Marx, film che dal titolo insomma mi aveva molto incuriosito un biopic incentrato sulla figura di Eleanor Marx detta Tussi la figlia più giovane del famoso filosofo teorico politico Karl Marx e siccome sul personaggio di Tussi intendo non è che sapessi gran che il film aveva questo ulteriore elemento di curiosità che appunto mi suscitava e sono andato a vederlo e dopo 11 mesi che insomma mancavo dalla sala mi sono trovato di fronte ad un film che nel complesso io considero buono un film che ho trovato interessante in molti punti e che sin dall'inizio con i titoli di testa ci fa capire che l'opera della Nicchiarelli l'idea della regista e sceneggiatrice del film è quella di raccontare una storia che però non rimanga relegata al suo periodo storico di riferimento perché il tutto si svolge tra il 1883 quindi la data della morte di Karl Marx infatti il film si apre con il funerale di Marx si chiude con il 1898 cioè la data della morte per suicidio di Eleonor Tussi Marx quindi una vicenda che non oltrepassa il limite del XIX secolo ma la parte diciamo politica ideologica che viene alla luce in questo film è qualcosa che invece influenzerà tantissimo il secolo successivo parliamo appunto del marxismo cosa che in realtà nemmeno oggi è andata diciamo così in pensione o è stata relegata questa ideologia a puro oggetto di studio di storia delle dottrine politiche perché il marxismo ancora oggi continua ad essere un punto di riferimento ideologico di rilievo nel pensiero dell'umanità anche se ovviamente non condiviso da tutti contrastato, discusso, criticato eccetera eccetera questa volontà da parte della Nicchiarelli di far capire allo spettatore che la vicenda non inizia e non finisce semplicemente con la morte di Tussi lo fa comprendere attraverso l'utilizzo della musica del commento musicale e di certe immagini che vengono inserite all'interno della rappresentazione di finzione cinematografica cosa vuol dire questo discorso? che dal punto di vista del commento musicale la nostra Nicchiarelli si è avvalsa di brani di musica punk che sono stati realizzati da un gruppo musicale chiamato The Downtown Boys e attraverso la collaborazione di un altro gruppo di musicisti il Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo un nome molto simpatico sono stati rielaborati altri brani musicali per rendere il comparto che va a comporre la colonna musicale più moderno ma soprattutto più vicino ai nostri tempi quindi abbiamo un'operazione che a mio avviso ricorda molto quello che ha fatto Sofia Coppola con Maria Antoinette dove appunto abbiamo la descrizione, il racconto della vicenda personale di Maria Antoinette nel Settecento nel periodo, negli anni insomma che precedono di poco l'avvento della rivoluzione francese quindi 1789 poi si arriva alla fine nel film proprio al momento dello scoppio della rivoluzione francese però all'interno di quel film venivano inseriti brani di musica pop, glam che facevano capire che la vicenda di questa sovrana adolescente con tutti i suoi vizi con le sue peculiarità con le sue stravaganze anche erano questioni che lei, cioè la regista accostava alla gioventù di oggi sostanzialmente la condizione di Maria Antoinette è del tutto paragonabile a quella degli adolescenti di adesso ora non voglio andare troppo nello specifico di Maria Antoinette magari poi vi dedicherò un video in futuro ma la cosa che viene fatta dalla coppola in quel film è molto simile a quella che fa la Nicchiarelli in Miss Marx la storia che viene raccontata, che viene narrata e soprattutto la vicenda personale di Tussi le sue contraddizioni la sua lotta politica hanno molto a che fare con la nostra contemporaneità soprattutto con la condizione delle donne di oggi perché è vero che rispetto all'epoca vittoriana la società di oggi ha fatto dei passi in avanti sicuramente la condizione delle donne ha vissuto un processo di emancipazione che è ancora in atto, non è compiuto ma sicuramente ha fatto dei passi in avanti rispetto all'epoca di Tussi ma questo è stato possibile grazie all'impegno di persone all'impegno delle militanti femministe come Tussi che si sono spese per tutta la vita per combattere, per portare avanti un ideale di giustizia che al tempo era più che mai osteggiato non solo dagli avversari di classe dagli avversari ideologici ma anche dagli stessi che avrebbero dovuto invece far parte di quello schieramento politico che avrebbero dovuto comporre la sua stessa fazione perché nel corso del film noi vediamo che certi pregiudizi certi elementi della mentalità maschilista patriarcale erano presenti anche nel modo di ragionare degli stessi militanti socialisti anche lo stesso Karl Marx nonostante ciò che ha teorizzato anche lui nel privato aveva dei comportamenti delle attitudini che non erano distanti dal modo di fare comune degli uomini del tempo quindi insomma la forma mentis di tante persone non era cambiata o comunque avrebbe necessitato di molto tempo per poter cambiare e il rapporto con il padre è diciamo una spia di questo conflitto di questo elemento conflittuale che caratterizza il personaggio di Tussi Marx interpretata da Romola Garai in una maniera secondo me assolutamente convincente con la morte del padre che è il primo capitolo del film il film è diviso in diciamo quattro parti e queste parti sono praticamente dei capitoli e il loro titolo è un anno specifico di riferimento su cui si vuole soffermare la nicchiarelli il primo appunto è il 1883 morte di Karl Marx eredità ideale filosofica che ricade sulle spalle anche della nostra Tussi soprattutto sulle spalle di Tussi perché lei è quella che vuole portare avanti quella battaglia politica che era stata appunto propria di suo padre e in questo emerge l'ammirazione nei confronti dell'intelletto nei confronti della ricerca che ha fatto Marx nel corso della sua vita ricerca nel spiegare i meccanismi soprattutto economici e poi ovviamente sociali del suo tempo la ricerca delle alternative la necessità della lotta contro il capitalismo e contro i rapporti da esso pesantemente condizionati sotto questo aspetto insomma emerge la profonda anche convinzione che anima l'agire politico e pubblico della nostra protagonista agire pubblico che però è posto in forte contrasto con la sua dimensione privata perché apparentemente il film può sembrare un racconto che ha più a che fare con la carriera politica con la militanza socialista della nostra Elena ormai in realtà il film guarda molto nel privato scava molto nell'intimità di questo personaggio ed è proprio lì che emergono le principali contraddizioni contraddizioni che poi alla fine risulteranno essere insanabili e superabili soltanto con un estremo atto di ribellione queste contraddizioni emergono soprattutto nel momento in cui si parla del padre come appunto di una persona che non era comunque del tutto libera da un certo modo di vedere il mondo da quale ruolo lui assegnasse per esempio alle donne di casa alle figlie eccetera questa è una cosa che insomma Tussi ha provato sulla propria pelle e di cui ad un certo punto si lamenta apertamente ma soprattutto queste contraddizioni emergono nel momento in cui Eleanor decide di mettersi insieme di iniziare una relazione amorosa con un drammaturgo con un militante socialista o pseudo socialista a ben vedere di nome Edward Aveling il quale sembra essere una persona amabile una persona sensibile che insomma è meritevole di fiducia affetto rispetto la nostra Eleanor lo ama molto si mette insieme a lui ma già sin dal primo capitolo vediamo che cominciano ad emergere degli aspetti non proprio ottimali di questa figura di questo personaggio e alla fine insomma capiamo che è una persona molto egoista una persona priva di un qualsiasi tipo di moralità un grande scialacquatore di denaro non si fa problemi a spendere per ragioni esclusivamente personali i soldi dello stesso partito socialista è un anticonformista che però insomma non disprezza il uso insomma questo noi lo vediamo chiaramente per esempio in quella scena dove c'è questo salotto dove Eleanor è insieme ad Aveling a casa di due loro amici tutti stanno fumando l'oppio tranne lei e insomma c'è questo ambiente molto elegante ma anche un po' kitsch e soprattutto si respira un'aria di grande decadenza e Edward è parte integrante di questo mondo mentre invece la nostra Tussi ad un certo punto sembra volersene proprio distaccare infatti noi abbiamo quella ripresa ad un certo momento quando lei abbandona la stanza abbiamo quella ripresa laterale di Tussi che esce va in questo giardino di notte e la luce la la illumina noi vediamo soltanto il suo profilo dietro è completamente oscuro è buio non si vede nulla vediamo il suo viso illuminato da questa luce pallida e la sua è un'espressione dubbiosa forse addirittura sofferente insoddisfatta insomma si capisce che Aveling non è l'uomo che vorrebbe che lei fosse e si sente un po' estranea da questo modo di vedere il mondo questo modo di vivere ma nonostante tutto continua a frequentarlo continua ad amarlo e nella parte successiva del film quindi siamo nel 1890 questi problemi insomma questa impossibilità di vivere una vita tranquilla stabile avere una dimensione privata che non sia fonte di problemi e preoccupazioni è chiaro che insomma sta diventando una illusione un qualcosa di sempre più irraggiungibile e oltre alle preoccupazioni del privato ci sono le preoccupazioni del pubblico perché appunto la nostra tu si ha ereditato l'ascito politico del padre si impegna nelle lotte sindacali si impegna nelle lotte per i diritti dei lavoratori ci sono appunto viaggi conferenze che fa visita alle fabbriche eccetera e chiaramente significa questo anche confrontarsi con la povertà con la condizione di estrema difficoltà spinta proprio alla sopravvivenza di questi proletari che insomma vivono in dei posti luridi e in condizioni veramente devastanti infatti c'è una sequenza significativa da questo punto di vista quando noi abbiamo lei che nel corso della manifestazione ad un certo punto segue un ragazzino difficile capire se sia un personaggio realmente esistente o se sia una sorta di spirito guida che la porta in una parte di questi quartieri popolari lei entra in questo luogo e scopre insomma una madre che è ammalata sta morendo su questo letto sdraiata accanto c'è il neonato che sta piangendo perché è affamato e lei evidentemente non ha più il latte è magrissima ha il petto scoperto e qui da un lato c'è una chiazza nera che insomma la sta divorando è una visione chiaramente spaventosa che fa capire qual è il senso della lotta che porta avanti la nostra Tussi lei lotta per quelle persone lì lotta per quella donna lì e la condizione femminile chiaramente come emerge nel film soffre di un doppio sfruttamento le donne proletarie sono da un lato poste in una condizione di inferiorità perché sono proletari appunto ma anche e qui si arriva al secondo livello sono poste in una condizione di inferiorità anche perché sono donne e questo emerge anche nel caso della figura di Tussi nel momento in cui lei diciamo farà una confessione nei confronti del dormiente Aveling e ci sarà una ulteriore esposizione di quello che è il suo pensiero anche politico in merito alla condizione proprio della donna e della necessità di liberare le donne della necessità di emancipazione appunto della classe femminile quindi dopo il 1890 c'è il terzo capitolo che è il 1895 è l'anno della morte dell'altra grande mente che ha concepito comunque contribuito fortemente a elaborare la dottrina originaria del marxismo cioè Friedrich Engels e nel momento della morte di Engels appunto l'amico fraterno di una vita di Karl Marx e punto di riferimento assoluto per il movimento socialista dopo la morte di Karl al momento del decesso di Engels la nostra Eleanor ha una rivelazione scopre che il ragazzo Friedrich detto Freddy Demuth non è figlio di Engels come tutti avevano pensato sino a quel momento ma in realtà suo fratello nato da una relazione extraconiogale tra il padre Karl Marx e una domestica e questo insomma è un ulteriore elemento che getta una certa ombra sulla dimensione privata sull'attitudine che privatamente ha appunto tenuto Karl Marx quindi la morte di Engels la scoperta di avere un fratello sono elementi importanti di questo passaggio del film poi abbiamo anche la scoperta che Haveling ha sposato in segreto un'altra ragazza questa è un'ulteriore botta tremenda per il non matrimonio fra Tussi e Edward tra l'altro nel corso di questo incontro inaspettato quanto Franco è carico di delusioni fra Eleanor e la nuova moglie di Haveling insomma emerge che Edward ha preso in giro entrambe quindi ulteriore conferma dell'assoluta bassezza di questo personaggio e di come queste due donne siano state raggirate che siano insomma anche delle vittime la seconda moglie lo è sicuramente più di Tussi perché in ogni caso Tussi è una donna che nonostante tutto non riesce mai a abbandonare Haveling lei nonostante tutto quello che pensa rimane incastrata all'interno di questa relazione tossica e appunto questo è un ulteriore elemento di contraddizione forse è il maggiore elemento di contraddizione che caratterizza questo personaggio ed infine si arriva al 1898 anno in cui il nostro Haveling dopo che aveva fatto un viaggio ritorna a casa dopo tanto tempo che non aveva dato sue notizie addirittura Eleanor pensava che fosse morto il rapporto fra di loro non migliora non cambia ci sono anche elementi di disillusione per quanto riguarda la lotta politica ci sono personaggi importanti storici collaboratori di Karl Marx come Paul Lafargue che ormai non hanno più nessun tipo di fiducia nei confronti della lotta politica insomma lui ritiene che sia che sia tutto finito mentre invece Tussi Marx ritiene che il futuro appartenga invece ai socialisti che il futuro darà ragione al marxismo al movimento socialista e lei sicuramente non si arrende insiste cerca anche di superare certe divergenze anche all'interno dello stesso movimento socialista ci sono anche degli scambi non proprio amichevoli con gli stessi con alcuni degli stessi lavoratori delle fabbriche con gli stessi operai quindi una lotta continua estremamente logorante un insieme di pressioni che alla fine le fanno capire che questa sua vita questa sua esistenza non può essere cambiata lei non avrà la forza di cambiarla però ha ancora la possibilità di rifiutarla questo è un elemento estremamente importante del film lei è un personaggio che ha sempre cercato l'amore e però questo amore non lo ha mai trovato perché appunto Aveling è quello che è ha sempre cercato la libertà per i proletari per le donne ha sempre lottato per raggiungere questi obiettivi ma nella sua vita questi traguardi non riuscirà a raggiungerli e allora che cosa rimane da fare? rimane il rifiuto l'ultimo atto di ribellione e nel suo caso è il suicidio e in un certo senso quel gesto di avvelenarsi è un po' assimilabile a quello che noi vediamo all'inizio del film Miss Violence dove abbiamo il personaggio della giovane Angeliki che si suicida per evitare di subire le violenze del padre o del nonno questa cosa insomma non è ben chiara e di di tutti quelli che insomma fanno parte del circolo del giro di prostituzione messo in piedi appunto dalla figura del capofamiglia di questo gruppo folle di persone ecco Angeliki quando compie gli anni si butta di sotto si suicida e quindi rifiuta il futuro rifiuta la nuova vita che l'aspetta visto che il momento di cui il compleanno viene visto come un momento di passaggio ecco che qui Tussi decide di porre termine alla propria vita ma soprattutto decide di fare questo ultimo atto di ribellione nei confronti di tutto ciò che lei non è riuscita a cambiare che lei non accetta che cerca di modificare non ci riesce l'unica cosa da fare è appunto rifiutare e quello è il suo ultimo atto appunto di ribellione che però all'interno del film viene rappresentato in una maniera molto intelligente secondo me la nicchiarelli non ci fa vedere la morte di Eleanor la sua è una morte che avviene fuori campo ma ci fa vedere la sua ribellione cioè nel momento in cui noi abbiamo una scena domestica Aveling è fatto di oppio e sta dormendo Tussi che prima aveva rifiutato di fumare l'oppio in casa degli amici a quel punto decide di farsi una tirata di oppio e a quel punto parte il commento musicale parte questo brano che si intitola I'm enough I want more sempre dei downtown boys e il personaggio la protagonista si scatena proprio letteralmente in questa danza estremamente libera estremamente appassionata e soprattutto emancipatoria proprio cioè il momento in cui il personaggio si sente libero da qualsiasi tipo di catena che sia una catena data dall'amore e in questo se vogliamo ci potremmo ritrovare una certa visione fasbinderiana del sentimento che si tratti di una catena imposta dalla società che si tratti di una catena imposta da un rapporto tossico e così via ecco che lei proprio sembra una figlia dei fiori in quel momento con questi capelli bellissimi lunghi che si muovono continuamente e lei che danza danza instancabile ecco quello è il suo atto di ribellione un atto di ribellione che è diciamo simbolicamente l'atto di una qualsiasi donna che vuole emanciparsi in qualsiasi momento della storia e in qualsiasi momento di adesso considerando che appunto il tema musicale è un brano punk e questa è una scelta che io ho apprezzato tantissimo perché la Nicharelli non ha bisogno di mostrare appunto la morte il decesso di Tussi Max quello che conta è il senso della ribellione del gesto che compie la protagonista e un altro riferimento che a mio avviso si può trovare in questo passaggio in particolare nella scena in cui lei fuma l'oppio è se vogliamo il film c'era una volta in america di Sergio Leone perché è la prima volta che all'interno di Miss Marx vediamo Eleanor fumare l'oppio e siccome lei danza si cimenta in un ballo che è assolutamente fuori dalla sua epoca e che invece ha più a che fare con il nostro tempo il tutto scaturisce da una fumata di oppio quindi dall'assunzione di una droga che come diceva il buon Sergio Leone ti fa immaginare cose che non hai mai visto ti fa immaginare se possibile anche il tuo futuro come nel caso di Noodles in c'era una volta in america dove questo personaggio appunto all'interno dell'oppieria mentre sta fumando sogna immagina il suo passato ma anche il suo futuro quindi un riferimento che io ho trovato molto interessante il film è sempre efficace il film riesce sempre ad essere equilibrato e a comunicare nella maniera migliore il discorso che sta facendo secondo me no ci sono alcuni punti in cui lo sfondamento per esempio della quarta parete o l'utilizzo del commento musicale non sono proprio ottimali è il caso per esempio della prima volta in cui abbiamo lo sfondamento della quarta parete in quel caso noi abbiamo Tussi che parla direttamente con lo spettatore nel momento in cui lei sta scrivendo sta probabilmente componendo un saggio di natura politica e abbiamo lei che espone quella che è l'ideologia marxista è a casa poi abbiamo lo stacco e lei che si trova in fabbrica in mezzo ai laboratori e continua a parlare con noi ecco questo è un momento che io non ho trovato efficacissimo l'ho percepito come troppo didascalico è perfettamente comprensibile il fatto che in un film dove si parla di Tussi Marx sia comunque necessario far comprendere quale sia la base ideologica di questo personaggio e del suo ambiente ma se lo devi esprimere così allora io ho preferito momenti in cui lei esprime sostanzialmente le stesse cose ti fa capire perfettamente quello che è il suo pensiero ma all'interno di un momento di esposizione fatto in un comizio come c'è per esempio un comizio molto molto bello molto puntuale che Eleanor fa ad un gruppo di donne dove parla della condizione femminile espone quella che sarà la società del futuro e del fatto che le donne insomma devono anche loro dare il loro fondamentale contributo alla realizzazione della nuova società eccetera eccetera quello è un comizio e lì si espone perfettamente in modo coerente in modo contestualizzato quello che è appunto l'armamentare ideologico della protagonista oppure e forse quello è il momento migliore quando lei espone le sue idee è quando ha questo sfogo solitario nei confronti di Aveling cioè quando lei ha scoperto che lui si è sposato in segreto con un'altra donna che ha ingannato pure questa eccetera eccetera lui sta dormendo beatamente su questo divano e lei ad alta voce si rivolge a lui e poi continua questa sua esposizione spostandosi per la casa e poi ritornando da lui e mentre il personaggio compie questo tragitto espone appunto quella che è la condizione femminile con tutte le sue storture con tutti i suoi aspetti legati allo sfruttamento all'inferiorità i problemi di una società maschilista fallocentrica la donna che viene doppiamente appunto sfruttata eccetera ecco quello è un momento che secondo me riesce in maniera efficace ad esprimere quella che è la sua ideologia e allo stesso tempo quella che è la sua frustrazione nei confronti di Aveling e quindi abbiamo in quella scena la fusione proprio perfetta secondo me tra quello che è l'elemento politico ideologico e l'elemento privato quotidiano personale intimo queste sono cose che io ho apprezzato del film ma l'esposizione così didascalica come avviene nel caso dello sfondamento della quarta parete la prima volta ecco lì invece secondo me il film non riesce ad essere efficace nonostante quello che dice il personaggio sia assolutamente comprensibile e anche condivisibile a mio avviso e poi c'è la questione del commento musicale nel complesso io l'ho apprezzato penso che se si vuole attualizzare la figura di eleanor marx e soprattutto se si vuole attualizzare la sua vicenda personale e quelli che sono i suoi ideali è giusto inserire brani musicali punk post punk insomma che hanno a che fare di più con il nostro tempo piuttosto che con il suo perché chiaramente il punk al suo tempo non era assolutamente suonato non era ancora conosciuto però secondo me Sofia Coppola in Maria Antoinette perché questo modo come vi ho già detto precedentemente di utilizzare la musica viene o quantomeno rimanda in modo pieno palese a Maria Antoinette in Sofia Coppola però lì io penso che questa operazione sia stata realizzata meglio sia stata più efficace e c'è un momento all'interno di Miss Marx in cui il commento musicale non è proprio utilizzato nella maniera migliore è nella scena in cui la nostra protagonista scopre di avere in realtà un fratello cioè che Frederick è in realtà suo fratello non è figlio di Engels ecco lì abbiamo il momento della rivelazione quando lei comincia a piangere il commento musicale che è il brano la Polonaise Opus 53 di Chopin che è stata un po' rielaborata ha un ritmo più veloce e sinceramente lì a mio avviso non ci incastra nulla questa melodia non c'entra niente soprattutto per come è stata reinterpretata mi sembra troppo stridente tra il momento fortemente drammatico di quella rivelazione di quella scoperta insomma la nostra Eleanor appare molto disperata appare estremamente delusa dall'attitudine del padre insomma sinceramente la Polonaise in quel momento non ci incastra nulla la Polonaise Opus 53 viene chiamata anche l'eroica capito che sarà anche eroica Miss Marx però sinceramente non c'è l'armonioso connubio fra la musica e l'immagine quello che viene rappresentato sullo schermo quello secondo me è proprio un qualcosa che non doveva esserci quantomeno ci vuoi mettere la Polonaise ok ma ce lo metti magari dopo non nel momento in cui lei si sta disperando sta piangendo perché francamente l'effetto che è venuto fuori è quasi un effetto comico e la cosa insomma secondo me non è giusta non rispecchia quello che è lo stato emotivo del personaggio e l'atmosfera che c'è in quel momento però per il resto io penso che il commento musicale sia assolutamente pertinente mi piace il fatto che il film sia stato organizzato come se fosse una serie di fotografie cioè nel senso che la suddivisione in date della vicenda di Tussi ci dà un po' l'idea che il film sia fatto di tante istantanee cioè la fotografia che ha a che fare con il 1883 pure immagine fotografia 1890 1895 1898 ecco la fotografia è l'immagine statica che però viene animata dal racconto cinematografico quindi questa immagine è del 1883 funerale di Marx faccio un esempio qual è la storia che sta dietro a quel momento e a ciò che ha seguito quel momento ce lo dice il cinema e quindi c'è il discorso della protagonista c'è poi il viaggio negli Stati Uniti l'amore con Aveling e così via ecco questa è un'organizzazione che io penso che sia stata azzeccata da parte delle Necchiarelli e all'interno del film ci sono delle immagini ci sono delle fotografie d'epoca che sono inserite per come dire rafforzare l'idea che il film sia stato effettivamente organizzato come se fosse una successione di fotografie ma anche per storicizzare e per rendere il film capace di andare oltre la singola epoca perché dico questo perché quando per esempio abbiamo il viaggio negli Stati Uniti ci sono delle riprese e delle istantanee che fanno riferimento a quel periodo successivamente però quando abbiamo se non ricordo male la morte di Engels quindi siamo nel 1895 abbiamo delle immagini quando si conclude il suo funerale abbiamo inserite queste immagini che richiamano alla comune di Parigi quindi siamo nel 1871 se non vado errato comunque dopo la guerra franco-prussiana e quindi stiamo parlando di un evento che è avvenuto precedentemente che ha a che fare con il passato quindi immagine degli Stati Uniti il presente di allora immagine della comune di Parigi il passato la comune di Parigi è stato il primo e importante esperimento di governo comunista in Europa e poi in seguito abbiamo le immagini le fotografie delle proteste operaie che vennero messe in atto negli anni 80 nel Regno Unito al tempo della Thatcher quindi questo ci aiuta a tracciare una linea diretta che collega la condizione dei lavoratori di fine 800 a quella dei lavoratori degli anni 80 del 900 quindi gente che insomma stava vivendo praticamente 100 anni dopo e questo per far capire che insomma come aveva detto la nostra Tussi cioè il futuro ci appartiene cioè questo ideale fin tanto che ci sarà lo sfruttamento la disuguaglianza eccetera sarà ancora di attualità sarà ancora importante sarà ancora significativo insomma questo è un po' quello che penso del film sicuramente mi sarò dimenticato di dire qualcos'altro ma insomma penso che ciò che vi ho detto sino ad ora sia sufficiente per farvi capire che il film non è un'opera perfetta ha dei punti critici però nel complesso penso che sia un bel film ben recitato con delle intuizioni registiche anche molto interessanti come appunto la scena del salotto dove tutti tranne Tussi fumano l'oppio lì abbiamo a un certo punto una bella inquadratura con un interessante movimento di macchina con la macchina da presa che è posizionata in un'inquadratura dall'alto ci dà molto l'idea della decadenza di quell'ambiente belle le intuizioni della fotografia per esempio quando abbiamo la discesa nell'inferno dei quartieri popolari della nostra Tussi grande cura nella scenografia e nei costumi tutto insomma viene curato a mio avviso nei miei dettagli che ci consente di credere comunque fortemente a quello che noi vediamo insomma una rappresentazione molto verosimile del tempo storico di fine ottocento insomma un film che è stato anche ben recitato insomma credo che tutti gli attori siano stati efficaci nella loro recitazione senza dubbio Romula Garai è stata la più brava non solo perché è la protagonista ma insomma è senza dubbio quella che è riuscita a rappresentare a comunicare al meglio tutte le sfaccettature tutte le sfumature di questo personaggio molto conflittuale e allo stesso tempo animato da una grande voglia di amore perché comunque il tema centrale forse il più importante di tutti è effettivamente l'amore non è un caso che il film si apra con questo elogio funebre che parla del rapporto personale del supporto della complicità dell'affetto che c'era fra il padre e la madre cosa che lei ha sempre ricercato nel corso della sua vita purtroppo con la persona sbagliata cioè con Avelin e alla fine poco prima che Tussi decida di suicidarsi la nostra protagonista scopre la lettera del padre che in gioventù aveva scritto quella che poi è diventata la sua moglie e da questa lettera emerge diciamo questo questo aspetto molto intimo e molto tenero di Karl Marx che fa capire a Tussi che questo sentimento lei lo prova ma Avelin purtroppo no e niente insomma questo è un po' quello che penso di Miss Marx fatemi sapere che cosa ne pensate se lo avete già visto se lo avete apprezzato iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto commentate condividete e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti